Durante Raw Talk la WWE ha comunicato le altre scelte del secondo e ultimo giro di draft. Andiamole a vedere, a cominciare proprio da Raw che si accaparra da NXT, Odyssey Jones, l'atleta più pesante al momento in forza alla compagnia. E sempre da NXT arrivano gli Indus Sher, ovvero la squadra capitanata da Jinder Mahal, che comprende anche Sanga e Vir Mahan. Con loro avranno residenza nello show rosso pure Akira Tozawa, Angel Garza, Umberto Cariglio, Dana Brooke, Emma, Johnny Gargano, questo è un nome pesante, non scelto in tv tra l'altro, Nicky Cross, Piper Neven, Riddick Moss, Tegan Nox e Xia Lee. Molto più ridotta la lista dei selezionati di SmackDown, che avendo meno tempo televisivo da occupare ha bisogno di un roster più ridotto. Lo show blu si è preso Tamina e, attenzione, un pezzo da 90 direttamente da NXT, l'uomo dalla lingua lunga, l'arrogante australiano Grayson Waller, che potrebbe anche riuscire a guadagnare presto consenso e fama anche al livello successivo. Voi cosa ne pensate di queste chiamate addizionali? Vedete un outsider che possa giovarsi dalla sua collocazione nel roster d'appartenenza? Qualcuno che possa fare strada, magari inaspettatamente bruciando la concorrenza? E chi sono quei lottatori o quei personaggi che sembravano in ascesa e che magari verranno invece schiacciati da un soffitto troppo stretto e troppo basso da poter saltare via? Beh, fatemelo sapere, come al solito, qui sotto nei commenti.